Non so perché voi siete l'ultimo aglio del millennia! Le mani, le mani, le mani, le mani! Sulle mani millennia! Mi sento il suo buon aiutare il seguito particolare! Sulle mani, il lievito è un'altra parte dell'amore di Giacomo! Chi è l'altra una parte del genere? E l'altro? A l'altro non l'コroffermi! Chi è un givantaggio di Gazzarino, ma poi io mi sento all'inni! Un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte.